Buongiorno, ciao Emilio, ciao. È inevitabile chiederti lo stato dell'arte e della salute intestinale del gruppo. Ecco, come stanno i ragazzi? Mi sembra che va a incidere molto sulla preparazione di questa partita, senza contare che poi uno che entra in campo debilitato, magari come lui, poi ha tempi di recupero stretti già di suo e a maggior ragione fa più fatica. Ecco, come state? Il dottore ha detto che stanno tutti bene, quindi sono tutti in ripresa, affermo Alessandro che stanno arrivando in questi minuti tutti i ragazzi, quindi poi facciamo il punto anche vis-à-vis, diciamo così. Soltanto continua l'emergenza di Mitch, di Dykes, il quale tra un po' farà ulteriori accertamenti, quindi tra qualche minuto credo avremo il risponso anche di Dykes. Per il resto non ci dovrebbero essere defezioni. Oltre che gli occhi di sinistra, quelli li avete sempre, la partita di domani sera avrete gli occhi di tutta la Serie A o almeno di chi lotta per lo scudetto puntati addosso. Questo cosa cambia per voi? Per noi francamente non cambia nulla perché noi abbiamo la nostra strada che dobbiamo continuare a percorrere, abbiamo le nostre motivazioni, abbiamo la nostra professionalità e quello che credo abbiamo dimostrato da sempre, ma voglio dire in particolar modo magari nelle ultime gare di Torino, di Milano, quindi continueremo, continueremo a farlo. Non so se da parte degli altri c'è un'aspettativa, un'attesa differente, ma noi continuiamo sulla nostra rotta senza nessun tipo di cambio, diciamo così, di mentalità, quindi per noi non cambia assolutamente nulla. Buongiorno. In genere si dice che queste sono partite che si preparano anche abbastanza da sole a livello motivazionale. C'è una motivazione in più sul fatto che ad esempio voi eravate in un momento difficile nel giorno della partita, quella dell'Epifania, e c'è stato ad esempio un triplo ricorso da parte del club avversario, qualcosa a livello di Pepe sulla sfida, può metterlo? Anche a livello vostro, di gruppo, perché immagino che quasi sembrava non credessero a Alifocolai. Diciamo che, come ho detto prima, in realtà noi dobbiamo essere concentrati su quelli che sono i nostri compiti, sui nostri obiettivi, non dobbiamo sicuramente farci condizionare da altro. Dopodiché sappiamo noi le difficoltà che abbiamo avuto magari in quell'occasione, sappiamo noi, come dire, anche della dignità con la quale abbiamo accettato la sconfitta ampia dell'andata. Quindi queste sono cose che conosciamo noi, ma fanno parte, voglio dire, della nostra crescita, di quello che bisogna metabolizzare in serie A, gara dopo gara, ma non sono sicuramente, diciamo così, ulteriori motivazioni che possono accendere il nostro animo in questa gara, perché secondo me se facciamo questo errore perdiamo un po' di vista quella che è poi la richiesta della gara stessa. Sappiamo ovviamente che giochiamo contro una squadra fortissima, una squadra organizzata che vuole per la seconda volta vincere lo scudetto, quindi noi ci dobbiamo concentrare su cosa dobbiamo fare per migliorare il nostro rendimento, cosa non ripetere rispetto ad esempio alla gara di andata, quindi noi siamo sicuramente molto focalizzati, quindi niente di più, niente di meno, voglio dire. Ciao mister, però sai cosa, vado sulla domanda di Massimo, giustamente risposta in maniera diplomatica, il tifoso del Bologna però godrebbe se il Bologna in qualche modo va a rovinare la corsa scudetto, comunque entrerebbe nel circuito mediatico domani sera in maniera prepotente. Allora c'è anche questo tipo di soddisfazione che volete togliervi in questa stagione, con tutte ovviamente le altre soddisfazioni, però la serata di domani vostra proprio da regalare anche a Mihailovic, perché no, e alla città? Ma come, non per essere diplomatico, sicuramente il tifoso ha il diritto di porsi degli obiettivi per godere, come dicevi tu, sempre di più. Però noi penso che lo stiamo facendo da un po' di tempo, anzi mi dispiace che qualcun altro magari si attenda a un atteggiamento un po' più remissivo da parte nostra, invece non è così, l'abbiamo fatto al massimo nella gara con il Milan, quindi non so perché non dovremmo ripeterlo in questa occasione. Chiaramente è un'occasione ulteriore, un'opportunità ulteriore per tutti quanti noi, per concludere prima di tutto in maniera ancora più professionale, seria, la nostra stagione. Poi sarebbe una soddisfazione sicuramente come dici tu, per i tifosi, ma una soddisfazione per la nostra squadra, per il nostro staff tecnico, per il nostro allenatore, quindi noi lo facciamo per questo motivo, non perché dobbiamo, come dire, dare risposte al campionato, ai mass media, a quelli che ci stanno seguendo. Le motivazioni, chiaramente la differenza tecnica sono magari fattori da un certo punto di vista anche, come dire, oggettivi in un certo senso, però come noi diciamo sempre, noi facciamo i sacrifici ogni giorno, noi quando perdiamo le partite torniamo a casa col broncio, litighiamo con le nostre famiglie, quindi voglio dire vale per i calciatori che devono vincere lo scudetto, come d'altronde per i calciatori che devono continuare a prendersi delle soddisfazioni come per noi. La dignità è una cosa che secondo noi va oltre, quindi noi sicuramente la rispetteremo e la vogliamo onorare fino alla fine. Ma no, proprio perché mi vengono fatte delle domande continuamente, magari sul fatto che il Bologna sia l'ago della bilancia di questo campionato o di questa fase dell'anno, semplicemente per quello. Noi dobbiamo, ripeto, dare sempre una risposta, ma in primo luogo perché noi dobbiamo sfruttare queste opportunità, l'ho detto già, lo ripeto, perché dobbiamo migliorare quello che è stato il nostro rendimento del girone di ritorno, perché vogliamo prenderci delle soddisfazioni, eccetera. Quindi questa è la prima cosa in assoluto. E poi, come ti dicevo prima, proprio perché noi siamo una squadra che è fatta di professionisti, fatta di ragazzi che vogliono dare tutto fino all'ultimo istante, fino all'ultimo minuto, quindi questo è quello che abbiamo fatto e quello che continueremo a fare. C'è stato uno striscione per un giocatore in particolare, per Medel, che è sempre quello che un po' caratterialmente trascina tutti, trascina la squadra. Chiedo sia a lei ma anche a Aaron, quanto può essere importante capire che si può entrare nel cuore dei tifosi, grazie soprattutto all'atteggiamento? Ma io credo che i calciatori, i calciatori questo lo sappiano, che poi magari ci sono determinati calciatori che hanno una garra, un'attitudine più focosa e sono più predisposti da quel punto di vista rispetto ad altri, poi fa parte un po' delle caratteristiche individuali. Però io credo anche che ognuno lo stia dimostrando a modo suo, magari Gary ha il suo modo di farlo, qualcuno altro lo fa in maniera silenziosa, qualcuno altro ancora lo fa rispondendo presente nelle occasioni in cui viene chiamato in causa. Quindi io credo che anche il tifoso debba anche riconoscere il modo per cui ognuno ha il suo modo di dimostrare l'atteggiamento, di dimostrare l'attaccamento e a mio avviso ragazzi che quando vengono chiamati in causa rispondono presenti con tanta serietà, tanta professionalità e un modo per rispettare la maglia, magari meno, tra virgolette, appariscente di altri modi, però altrettanto valido. Quindi io sottolineerei soprattutto questo. E da questo punto di vista, a mio avviso, ci sono tantissimi ragazzi, anzi, mi avviso tutti i ragazzi stanno dimostrando un grande attaccamento, quindi è giusto che tutti quanti entrino nel cuore di questa tifoseria. Grazie a tutti i ragazzi, i tifosi stanno iniziando. i tifosi stanno comportando in maniera straordinaria durante la stagione. Noi seguiamo sempre l'atteggiamento di Gary, che è un guerriero, è un vero leader, è un combattente in mezzo al campo. Lo seguiamo appunto nel suo atteggiamento e per noi è una cosa molto positivo di averlo come compagno di squadra. la tattica quanto le e quanto vi ha scocciato prendere due gol su palavostra con l'Udinese sicuramente ci ha dispiaciuto nel senso ci ha un po' amareggiato però voglio dire come in altre circostanze abbiamo detto nel momento in cui avviene questo cercando magari di costruire, cercando di mettere qualità all'interno della gara, io credo che dobbiamo essere più forti di tutto sarebbe troppo facile, sarebbe un po' secondo me riduttivo, puoi dire in certe occasioni una palla va messa magari lunga bisogna evitare di assumersi dei rischi io credo che sì, però penso magari anche alla prima circostanza, al primo golo che è stato detto, abbiamo cercato di costruire dal basso c'è stata una palla rubata una palla recuperata io credo che faccia parte del del gioco, però far crescere una squadra in termini di di personalità significa anche continuare a a perseguire degli obiettivi dei principi anche a volte quando magari non vanno non vanno del tutto bene lo abbiamo sempre fatto vogliamo continuare a farlo anche io credo nell'ultima gara siamo riusciti poi a rialzare un po' il il baricentro, a venire fuori proprio mettendola sul piano della qualità, quindi sul piano del palleggio e voglio dire noi continueremo a fare a fare questo se ci sono degli degli errori sicuramente saranno un'occasione per per migliorarci quello quello è fuori discussione ciao Emilio ciao ascolta esistono i gli acquisti estivi esistono gli acquisti di gennaio estremizzando il termine Sansone è un acquisto di aprile no no perché perché è chiaro che magari voglio dire c'è il risalto del gol segnato c'è il risalto di non lo so magari di ultime ultime apparizioni fatte forse con più con più qualità non lo so nel giudizio di qualcuno però io dico sempre sono dei piccoli mattoncini che hanno costruito hanno cementato il nostro il nostro gruppo e di questi mattoncini fanno parte persone come e calciatori come Nicola Sansone come Nicola Sviola come Francesco Bardi e potrei continuare lo stesso Luis Binx che ha giocato titolare l'ultima gara Kevin Bonifat cioè voglio dire tutto quello che loro quotidianamente riescono a darci che in qualche modo ci fa rendere sicuramente di più poi ci sono i momenti in cui la vetrina spetta al Marco Arnautovic di turno e i momenti in cui spetta un calciatore che è subentrato e timbra per la prima volta il cartellino ma soprattutto per noi è importante che in questa fase siano tutti pronti siano tutti disponibili e credo che l'abbiano dimostrato Nicola sanzione in primis nel momento in cui è stato chiamato in causa e siamo sicuri che continuerà a farlo anche in queste ultime gare Buongiorno entrambi per Emilio può aver minato l'equilibrio del campionato il fatto di recuperare la partita solamente domani da parte di chi nel senso di Bologna ma anche della lotta a Scudetto Io credo che sostanzialmente in primo luogo le partite debbano decidersi e il campionato debba decidersi in campo questo è il primo punto piuttosto che a tavolino quindi a noi interessa a noi interessa quello quindi ci giocheremo la partita a viso aperto ora o gennaio o aprile come nel nostro caso daremo comunque noi il massimo credo la stessa cosa chiaramente per chi è in Lizza per lo Scudetto quindi io non penso che cambi nulla anche perché secondo me in questo momento le squadre che devono raggiungere determinati obiettivi devono avere una forza mentale tale una lucidità una concentrazione sugli obiettivi che sicuramente non devono farsi condizionare da aspetti del genere altrimenti a mio avviso hanno dei limiti Le chiedo cosa vi cambia anche se poi lui se lo mette in campo da un giorno all'altro gioca ma cosa vi cambia nel verdetto di questo pomeriggio e se visto che la squalifica di dieci giorni fa non poteva arrivare anche un po' prima questo verdetto invece che farlo il giorno prima della partita anche per una vostra comodità sapere o meno di averlo o no Gheri parli ma cambia cambia chiaramente diciamo da un punto di vista tecnico dei compiti che vengono richiesti a determinati calciatori piuttosto che ad altri ma di fatto cambia cambia relativamente voglio dire perché ad esempio noi oggi ovviamente lavoriamo con due squadre miste anche oggi per esempio perché è importante che tutti sappiano cosa cosa gli aspetta sappiano fare determinate cose giochi l'uno giochi l'altro a noi non ci non ci deve cambiare la vita anche perché ripeto è una squadra comunque matura evoluta da un punto di vista tecnico-tattico e soprattutto ora è una fase in cui devono essere tutti quanti pronti e coinvolti quindi giocherà Gheri dall'inizio avremo diciamo degli obiettivi specifici e determinati calciatori avranno delle funzioni tra virgolette specifiche non lo farà Gheri lo avranno degli altri ma sinceramente non ci cambia non ci cambia tantissimo voglio chiedere Aaron cinque gol al primo anno in Italia la statistica dice che nei campionati principali d'Europa sei quello che ha fatto più gol ti aspettavi di segnarne così tanti e ti chiedo se visto che tu sei molto ambizioso e vuoi giustamente diventare un top player come e dove vedi il tuo futuro ok this season for myself I just I expected well hopefully just to try and play some more games than I did last season and I've managed to do that and play games this season and managed to score five goals which is a good achievement for myself so yeah no I'm dead happy and I just need to keep going and trying to do my best and keep my head down and just keep working hard and training and try to get some more goals the future no one knows I just as I said I just want to keep my head down and just keep working hard here and just trying to get better and learning off the coaches every day so yeah I'm enjoying myself here I'm enjoying it I'm enjoying it I'm enjoying it del quale sono molto contento però l'importante è mantenere la testa bassa, continuare a lavorare lavorare duro con questo staff che mi sta aiutando molto per quanto riguarda il mio futuro voglio godermi ogni momento qua e sono molto concentrato sul mio lavoro e quindi come ho già detto prima mantengo la testa bassa e voglio lavorare duro per continuare a raggiungere obiettivi e magari anche segnare più gol Ti chiedo se visto che in Scozia avevi segnato solo un gol tra i professionisti se il segnare gol era una cosa che ha sempre fatto parte del tuo bagaglio tecnico cioè se hai sempre segnato gol e lo hai sempre saputo fare è una cosa che ti è stata insegnata qui, gli inserimenti giocare più vicino alla porta e se questa consapevolezza di poter segnare tanti gol ti può aiutare a diventare un leader tecnico di questa squadra, magari non caratteriale perché forse devi ancora crescere sotto il livello dell'esperienza, te lo chiedo grazie 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 so that's probably one of the reasons that I've managed to get five this season and what was the second question yeah no since I've came to Italy I feel like I've learned a lot of new things as I said earlier of how to be in the right positions to score those goals so yeah as I said I'm just here to try and learn and try and get better for the next seasons and as I said before the way to play helps me to acquire more experience and I'm going to have a lot of confidence and that's why I'm going to have a lot of confidence and I'm going to have a lot of confidence in my game and for the team I'm going to have a lot of confidence in my game I'm going to have a lot of confidence in my game so I'm going to have a lot of confidence in my game I'm going to have a lot of confidence in my game and I'm going to have a lot of confidence in my game so I'm going to have a lot of confidence in my game and I'm going to have a lot of confidence in my game Sicuramente è una carta che possiamo giocarci dal primo minuto, questo è fuori discussione. Dopodiché nel momento in cui lui è subentrato sicuramente ha la capacità di entrare subito nella gara, di metterci subito in prevedibilità, qualità, quindi quella è un'altra risorsa. Però voglio dire che possiamo anche sfruttare l'inerzia e la fiducia che in questo momento dopo il gol che ha realizzato Nicola ha dalla sua, quindi valuteremo. Oggi, come ho detto prima, proveremo un po' di soluzioni, non abbiamo ovviamente tanto tempo, però faremo in modo di far provare un po' anche a tutti gli attaccanti quelli che sono il nostro piano e il nostro piano gara, dopodiché poi decideremo. Buongiorno entrambi, Aiki chiedo invece, al netto di una stagione ovviamente questa per te è molto bella, quali sono, secondo te, gli aspetti dove devi ancora migliorare di più? Buongiorno, I know that I still need to learn a lot and I think I have to work on a bit of everything, you know, going forward and defensively. I still have both parts of the game to still improve, so, as I said, just I'm sure the coaches will be able to help me with that here. Indubbiamente in tutti gli aspetti delle due fasi, sia difensivamente che offensivamente, ma sono sicuro che qui c'è uno staff molto preparato e l'allenatore potrà aiutarmi a migliorare appunto questi aspetti. questi aspetti. Emilio, volevo sapere, vabbè, il messaggio di Sinisa qual è e se c'è stato un messaggio del Presidente in questi giorni, visto che è qua. Io personalmente non sono stato presente a eventuali messaggi del Presidente, quindi lui ha salutato tutti quanti noi e soprattutto ha parlato in maniera molto, voglio dire, cordiale ed affettuosa con il nostro allenatore in una conference, in una call. Quindi, altri aspetti sinceramente non ne abbiamo discusso, non fosse altro che siamo un po' tutti di corsa secondo me in queste ore e purtroppo non abbiamo avuto proprio modo. Il mister è semplicemente di continuare a renderlo orgoglioso, di sfruttare domani l'opportunità perché è una di quelle partite che, come ripete sempre lui, tutti vorrebbero giocare, o meglio, tutti i ragazzini che vogliono diventare dei calciatori, lo fanno con l'obiettivo di giocare con queste grandi squadre per dimostrare effettivamente quanto valgono. Quindi, semplicemente di farlo a viso aperto, di farlo in modo spregiudicato come lo stiamo facendo in questo periodo, cercando anche di conseguenza di dare a lui una soddisfazione e renderlo ancora una volta orgoglioso del gruppo che è qui, che lavora con tanta serietà, con tanta professionalità e diciamo null'altro. E solo se ci puoi dire, visto che è stata una settimana turbolenta dal punto di vista della salute quella scorsa con questo virus, ecco Arnautovic che non ha giocato perché l'ha squalificato, non ha avuto questo problema, sta bene? Come sta Arnautovic? No, Arnautovic sta bene, sì, sì, sì. Non ha avuto nessun problema da quel punto di vista, poi voglio dire lui ha una tigna forse pure più forte di qualcun altro e quindi non ha problemi da quel punto di vista. Grazie.